Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese Maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui dispose. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello volendo giustificarsi disse a Gesù e chi è mio prossimo? Gesù riprese. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto. Lo percorsero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavaltatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse va e anche tu fa così. Questa parabola è uno stupendo regalo per tutti noi e anche un impegno. A ciascuno di noi Gesù ripete ciò che disse al dottore della legge. Va e anche tu fa così. Siamo tutti chiamati a percorrere lo stesso cammino del buon samaritano che è figura di Cristo. Gesù si è chinato su di noi. Si è fatto nostro servo e così ci ha salvati. Perché anche noi possiamo amarci come lui ci ha amato. Lo stesso amore.